su black desert ogni personaggio è diverso dall'altro questo grazie a un sistema di skin del carattere e consiglio di utilizzare se uno ha bisogno questo sito su facebook si chiama video character template qui potete trovare diversi tipi di template suddivisi per classi ne abbiamo diversi tipi sia per maschi sia che per femmine sono veramente molto belli e trovate qualsiasi tipo di personalizzazione dedicato il template sarà una cartella raro zip lo aprite e troverete questi fogli bianchi questi fogli vanno copiati e poi incollati nella cartella in documenti riguardante black desert in customizzazioni e qui in andate incollare il foglietto bianco perfetto entriamo all'interno del client avviando il gioco e avremo questa schermata qui possiamo farci il nostro personaggio come vogliamo noi mettendoci i capelli la faccia eccetera poi utilizzando il template che avevamo scaricato prima quindi andiamo in load file e cerchiamo il template in questo modo ci ha cambiato il personaggio come poi a nostra volta possiamo di nuovo cambiare alcuni tratti con i capelli colore dei capelli colore degli occhi gli occhi tutto quanto quindi andiamo all'interno dire un nome particolare in questo caso per unir facciamo creazione completa a questo punto avremo creato il nostro personaggio